A 20 anni, è una modella, ex Miss Montenegro, e sostiene di essere la fidanzata di Silvio Berlusconi. Il suo nome è Katarina Knezzevich e, parole sue, vive ad Arcore. Stiamo insieme da quando, esploso il caso Noemi, si è separato dalla moglie. Ma non l'ho mai richettato. La giovane racconta di aver conosciuto Silvio Berlusconi nel 2009, quando aveva appena 18 anni. Ci siamo incontrati a Milano, ad un'inaugurazione. Dove c'erui ci sono io, lo seguo ovunque e la nostra relazione non è un mistero. Katarina è nata il 21 maggio del 1991 nel quartiere popolare di Mortovina, periferia di Podgorica, nel Montenebro. Ha due sorelle più grandi. La prima, Slavica, 32 anni, è stata anche la Emis Montenebro ed era un tempo vicina al boss montenegrino Ratkodkokic. L'altra è Cristina e insieme con la sorella Katarina cercò di conoscere già Berlusconi a Podgorica nel 2009, ma data la minore età e la loro incapacità a parlare l'italiano, non riuscirono a partecipare alla cena organizzata dal primo ministro Milo Ducanovic. I dubbi, ovviamente, sono molti. La modella pare essere uscita allo scoperto in uno dei momenti di maggiore utilità per il Premier. I dubbi, ovviamente, non riuscita allo scoperto in uno dei momenti di maggiore.